...molto bassa, di 37,988 secondi, Michele Ferraris della Termoclinca, il terzo era giunto Walter... ...tre, due, uno e... ...e questo è il terzino Memorial Montanari, perché voglio sfilarvi alla memoria. Sono partiti noi, seguiremo la gara attraverso Radio Forza... Ed eccoci, partito lunghissimo, lo sprint! Tutto da volere! Tutto da volere! Grazie! 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 Grazie!